Sei famiglia Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K Oggi parliamo di un sequel Marvel Anche se la Marvel è un po' più distaccata dall'universo che piace alla maggior parte delle persone Ovvero l'universo Marvel della Sony Ed è Venom 2, la furia di Carnage Ha avuto un primo capitolo che a me non ha fatto impazzire Ma avete già visto la recensione, quindi avete già sentito che cosa ho detto, che cosa ho blaterato l'altra volta Era un buon disco, era veramente un buon disco E qui ci ritroviamo con il secondo capitolo Secondo capitolo con una regia di Andy Gollum Circus, il nostro caro amatissimo Gollum Che ha fatto anche il live action per Netflix del libro della giungla Sapete quando erano usciti i due libri della giungla Che a me non era dispiaciuto affatto il film del libro della giungla Secondo capitolo di Venom Io ho cercato di stare lontano dalle recensioni Insomma a me piace vedere un prodotto per giudicarlo Quindi ho preso il disco Mammanei Com'è il film? Allora l'altro giorno se avete visto ho fatto la reunion all'Arcadia di Spider-Man del canale Quindi ci siamo visti Spider-Man, l'ultimo film alla Sall'Energia Arcadia E ieri sera proprio sto registrando questa recensione Proprio c'ho tutto in mente L'ho visto ieri sera, ho appena finito di vedermi gli extra Quindi è tutto fresco nella mente Certo che dopo aver visto Spider-Man Guardi Venom Sono due mondi completamente differenti Insomma in Spider-Man c'è anche più fuoco nella sceneggiatura Ci sono più cose, multiverso eccetera eccetera Assolutamente non dirò spoiler, non dico niente di Spider-Man Venom Continua la trama del primo film Qui c'è Carnage Il killer psicopatico interpretato da Woody Harrelson Che incontravamo alla fine del primo film Io sono andato anche a leggermi le origini di Carnage Come diventava Carnage Perché dopo aver visto il film ho detto Così diventa Carnage Ed effettivamente Solo che in un fumetto te lo fai anche un po' mentale la cosa Te lo costruisci Anche se sono tre disegni Ti dici vabbè Però te lo costruisci mentalmente Un libro, un fumetto eccetera eccetera Qui nel film, il film veloce Un'ora e mezza Velocissima Esclusi i titoli di coda Ragazzi a me non è piaciuto Mi ha divertito Allora sicuramente Woody Harrelson E Tom Hardy Nella parte di Eddie Brock Si sono divertiti un casino Anche interpretare i loro personaggi Tom Hardy fa anche la voce Si pre-registra la voce per Venom Così nel set riesce a rispondere a se stesso Riesce a Insomma Si è divertito tanto E interagisce veramente molto bene con Venom E molto più commedia con Tom Hardy Barra Venom Del primo Però la storia Nonostante Anche lo vedi negli extra Ci siano molti collegamenti ai fumetti Molti collegamenti E chi ha fatto la sceneggiatura Li ha letto i fumetti O magari è andato su Google Ha trovato le cose così Non lo possiamo sapere Però insomma Il collegamento con i fumetti c'è Per chi segue Carnage Barra Venom Ma alla fine io guardo Il prodotto completo E a me non mi è Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Troppo semplice E adesso passando al video Dico un'altra cosa Quindi vi divertirete Abbastanza Ma non aspettatevi un capolavoro E se aspettate Un prodotto più maturo Registicamente Insomma un po' più profondo Un po' più supereroe Del primo film E come il primo film Ne di più E anzi un pochino di meno Ma ragazzi A me non è piaciuto Magari voi lo guarderete E vi piacerà un casino Insomma questo è il mio gusto personale Non mi aspettavo chissà cosa Sono partito molto basso Come aspettative Però sono rimaste basse Come aspettative Parlano tanto Nonostante ci sia molto Venom Esce sempre fuori Venom Insomma tanta CGI Non decolla Il montaggio Le musiche non mi sono piaciute La colonna sonora musicale Non mi è piaciuta Non lo so Ma son partito con aspettative basse Insomma ero proprio Accettiamo il prodotto Per quello che è Cerchiamo di cogliere Qualcosina in più Niente A me non ha colpito Non mi è piaciuto Vabbè comunque Passiamo al video Video ripreso Con le Arial X Mini Large Format Con anche le Arial X 65 Dai video dietro le quinte Vedete i monitor C'è la risoluzione di 5 punto Perché era un po' sfocato il monitor Però è oltre i 5K Di risoluzione di riprese Non ho trovato A quale master siano arrivati Io presumo un 2K Presumo Ha istinto proprio Però non soffermiamoci tanto Se è 4K o 2K HDR 10 Dolby Vision Contrasto eccezionale Rispetto al Blu-ray E proprio il Blu-ray E sempre la versione spenta del film Le luci dei semafori Dei negozi Dei lampioni Delle lampadine E veramente Un bell'HDR Barra Dolby Vision Per quello Colori Mi è piaciuto Un sacco Purtroppo C'è tanto Cioè purtroppo E c'è la CGI Perché Chi lo fa Venom Oggi Quei pupazzetti Che si articola Così Carnage Con mille tentacoli In stop motion No C'è tanta CGI Dove c'è la CGI E anche per uniformare un po' il tutto E leggermente morbidine Quando c'è della CGI C'è una specie di Bloom Di effetto Bloom Ma non mi ha entusiasmato tanto Il micro dettaglio c'è Quando ci sono i primi piani Ma anche la boccaccia di Venom In CGI Insomma Il dettaglio c'è Lo scalino Dopo il Blu-ray Assolutamente C'è Il salto Lo fa Soprattutto per l'HDR Perché l'HDR Nelle esplosioni Vedrete anche il finale È molto scuro Come scene In tante scene Aiuta tanto Aiuta tanto L'HDR E il Dolby Vision E per il lato video Non posso che consigliarlo Ah Un piccolo appunto Non mi è piaciuto Il passaggio da 2.39.1 A 1.85 Tutto schermo Ok A voi piacerà Perché usa tutto il televisore Ok Ma come Impatto e fotografia Quello lì Me lo fa Secondo me Snaturare ancora Un pochino di più Secondo me Mantenendo un bel panoramico Dava un po' più di forza Alla fotografia Lo rendeva Un pochino più Grande Come produzione Ma questa è una cosa Mia mentale Guardando i film A me sembra più Cinematografico Venom Parlo in questo caso Il primo film Rispetto al secondo Il secondo mi sembra Un po' più Videogioco Che non film Cinematografico Comunque Piccolo piccolo Dettaglio Dal lato audio Abbiamo una Ottima traccia Dolby Atmos In inglese Nel disco 4K E una traccia DTS HD Master Audio Italiana 5.1 Altrettanto potente Veramente bella Quando parla Venom Con la sua vociazza Così Il centrale Proprio caldo Profondo Il subwoofer Quando ci sono delle botte O anche per aiutare Con la colonna sonora A dare più enfasi Alle scene Credetemi Che il subwoofer Lavorerà Lavorerà La grande Sia in Atmos E sia in italiano DTS HD Master Audio Italiano Non posso dirgli niente E' veramente Una bella traccia Alzate il volume Lasciatevi trasportare Perché sarà una bella giostra Tantissimi effetti Surround Non tantissimi effetti Atmos Sopra dalla traccia inglese Però il fatto è che Era veramente Una traccia invisibile Insomma La musica Quando cambiate traccia Sentite che da qua Nonostante non lo sentite Distintivamente Da sopra Però cambiando traccia S'abbassa di un piano Il suono Insomma L'atmos c'è Lavora E' molto più spaziale Come audio Ma ripeto Sono tutte e due Ottime tracce E Se volete sentire in italiano In 4k Godete Alzate il volume E andate Tanto tanto Surround Quello mi è piaciuto Tanto surround Tanti rumorini Quando vanno all'istituto Ravencroft Delle celle Insomma Rumore di Prigione Segreta Tanti rumorini Ci saranno Però purtroppo Questo bel hdr Questo audio Applicato a questo film Che come trama Non è che Ora ragazzi Non mi è piaciuto Non lo voglio dire più Però Dateci un'occhiata Insomma Magari a voi Piacerà tantissimo Però Per sentire in italiano Così andate sul sicuro Che è veramente Un bel sentire Passando agli extra C'è circa Un'ora di extra Tra scene eliminate 10 minuti Papere sul set Insomma Lì vedete Quanto si sono divertiti Backstage Dal dietro le quinte Come hanno fatto A fare le scene Abbastanza commerciale Il fatto è che A me fa un po' ridere Quando In questa scena Abbiamo cercato di fare così Perché lì c'è L'attaccamento emotivo E poi guardi il film Quella scena Va bene Va bene Però l'importante È che Nella lavorazione del film Voi siate stati Concentrati E convinti Di quello che stavate facendo No mi spiace Mi spiace Che è un prodotto così Mi sarei aspettato di più Poi Io non so cosa avete letto C'è anche un collegamento Allo Spider-Man Del cinema Che mi ha Dopo aver visto Spider-Man anche Mi ha abbastanza deluso Non dico niente Non vi dico niente Anzi Non andate neanche a cercare Godetevi la sorpresa Quando guarderete Spider-Man 3 Però Mi ha abbastanza deluso Molto deluso Anche il finale del film Io non riesco a togliermi Vabbè Vabbè ragazzi Comunque Gli extra ci sono Un'oretta di extra Sono carini Interessanti Come hanno fatto Gli effetti speciali Li vedete lì Con la macchina finta Poi dopo applicheranno La CGI Anche Woody Harrelson Si è divertito un casino Però come divertimento Durante il set Si sono divertiti Sicuramente Peccato che il film Non trasmetta Quell'entusiasmo Che avevano nel set Ok basta Non lo rovino più Guardate voi Giudicate voi Ok Io la chiudo qui Un bell'HDR Veramente Mi è piaciuto Il grading HDR È di patto Mi è piaciuto Mi è piaciuto L'HDR Il dettaglio Anche c'è Non mi ha entusiasmato Ma proprio perché C'è tanta CGI E hanno cercato Di uniformare il tutto Non mi ha entusiasmato Però lo scalino Dal Blu-ray State tranquilli Che Lo fate Con lo scalino in più Lo fate Audio Grazie per aver lasciato La traccia A DTS HD Master Audio Sia sul Blu-ray Che sul 4K Grazie Ma Chiudiamola qui Noi ci rivediamo Nel prossimo episodio Di Into the 4K Sayonara a tutti E bye bye Ciao